domani e mercoledì 9 aprile la chiesa fa memoria tra gli altri di san demetrio di tessalonica le previsioni meteo di tele nuova benvenuti alta pressione con contributo nord africano sull'italia nel pomeriggio brevi il temporale o locali piogge interessano i rilievi del veneto e poi anche la dorsale apenninica tutta verso la puglia inottata clima mite primaverile con temperature fino a 25 gradi un po ovunque sulla campania agirà un debole flusso di aria umida proveniente da ovest nord ovest un flusso che causerà il passaggio di qualche nube seguita da un rinforzo dell'anticiclone tra il pomeriggio e la serata il cielo dunque domani sarà sulla campania irregolarmente nuvoloso le temperature saranno stazionarie i venti deboli da ovest collocare rinforzi il mare sarà mosso